Ascolta, 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 non ti avrei detto niente, ok? Ascolta, queste sono regole dello Stato che vanno a me. Beh, è un regole dello Stato, io sono un antistato. Eh sì, ma in quel momento cosa faccio? No, 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 no. No, allora, io sono uno dei responsabili della Lombardia, quindi tutto quello che cazzo so io. Allora, una volta che Dio lo ha detto, mi vuoi dire una volta che sono a casa loro, ma è casa mia. Ok, bene, che stiamo. Eh, sì. Eh? Eh, sì, io ho preso un locale. Ma che cazzo? Mmm, scusatemi un'altra, scusatemi un'altra parola, è un locale notte. Io sono il mio responsabile. Vado, ma chi state? Eh, sono il mio responsabile interzioso. Un responsabile giortello su mio, è Cugino Macchino. Pugno. Quindi se la cosa c'è che non avevamo madre, questo è un problema. camion, esercito italiano, che hanno portato ai morti, la, seguido, il mio di covid, ma che tutto l'anno, da scuola eseguiti, come via, per, da sport di salve, con lo giusto, 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 con lo giusto. Ma, da qui ci vuoi, puoi. Perché se scrive la data a casa, hai capito il tuo senso? Io sono il mio, miglia di lavoro, e se no, lo è con l'impa, lo possiamo f***are, una po'. E ci siamo inizialmente, tutto il 2020, allora, vado adesso, che la tua moglie si vuole il 2020. Allora, però poi scrivi la vostra, x, 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 perché poi l'avevo considerato il fatto del trasporto, no? Perché c'è lì, va? Capito perché non lo so, però, non è? Perché c'è l'alto.